Tu hai fatto Amici, hai fatto X Factor. Sono curioso di sapere questo, cioè nel senso tu dopo aver fatto queste cose ti aspettavi magari più chance, più opportunità? Allora, le chance sono arrivate, alcune le ho utilizzate in modo giusto, alcune me le sono fatte scappare. Sicuramente perché parlando di X Factor, dopo la vincita abbiamo avuto un contratto con una grandissima major, ovunque andavamo era Fighissimo, secondo me non abbiamo sfruttato benissimo tutta la situazione e quindi mi aspettavo di più in termini di discograficamente parlando e anche di altro.